le pieghe delle vele sono stato sollecitato varie volte su questo tema che in effetti non è molto sexy per quello che non avevo ancora fatto un video su questo ma però a che fare effettivamente con la vita con la vita di tutti i giorni dei velisti insomma il tema è sempre quello di come riporre le vele nel momento in cui abbiamo finito di navigare devo dire la risposta facile alla domanda se la piega faccia bene o male alla vela è fa male alla vela la piega non fa bene affatto voi dovete immaginarvi in questo caso un foglio di carta se la vela fosse un foglio di carta e io la piegassi chiaramente nel punto della piega avrebbe un avrebbe un danno e aggiungo che se io faccio sullo stesso foglio di carta la piega sempre nello stesso punto questo danno peggiora fino a creare a un certo punto una una rottura e in questo da questo punto di vista le vele sono assolutamente molto simili appunto come comportamento alla carta perché più sono sottili e flessibili meno paradossalmente questo danno è grande più si avvicinano un cartoncino addirittura un cartone più quando noi pieghiamo magari è difficile è difficile fare la piega ma nel momento in cui la piega si forma si crea anche una micro rottura che si vede nel caso del cartone si vede si vede chiaramente e diciamo nel caso delle vele il carbonio in special modo non gradisce la piegatura secca il carbonio patisce molto la compressione e nel momento in cui noi pieghiamo un filo di carbonio ragionevolmente spesso chiaramente la parte interna va in compressione e tende a rompersi questo è un effetto che si crea ma inevitabilmente non c'è un modo per evitarlo veramente in una vela di una barca grande che abbia il carbonio dentro sicuramente questa rottura c'è si rompe quello si rompe il film piano piano cioè nel senso chiaramente si danneggia poi dopo si rompe si rompe il film alla lunga chiaramente si rompono chiaramente anche le vele fatte con filamenti carbonio anche quelli anche quelli comunque patiscono il piegamento appunto perché in ogni caso si tratta di fibre di carbonio che vanno che vanno in compressione è ovvio che più il carbonio è trattato in maniera da mantenerlo flessibile meno rimane danneggiato quindi se la colla che all'interno della vela è poca oppure è una colla comunque che rimane molto flessibile questo chiaramente preserva il carbonio dalla rottura altre fibre sono molto meno sensibili al piegamento tutte le fibre che vengono in generale utilizzate per fare anche manovre correnti dritz e scotte ovviamente sono molto meno sensibili al piegamento perché sennò non funzionerebbero neppure come manovre correnti molto banalmente quindi il Vectran, il Kevlar, il Tecnora, il Dyneema, Spectra come volete chiamarlo chiaramente non patiscono particolarmente il fatto di essere piegate come anche chiaramente il poliestere insomma patiscono molto molto meno rispetto al carbonio che infatti da un punto di vista dell'utilizzo diciamo nei cavi viene utilizzato in cavi che rimangono fondamentalmente dritti come le sarti appunto viene utilizzato per le sarti ma non per le cime, per le scotte, per le drizze insomma per cose che vanno in strozzatori o che comunque fanno degli angoli secchi quindi sono molti gli aspetti che vanno messi in conto quindi il tipo immateriale della vela deve farci rizzare le antenne quando vediamo che abbiamo una vela in carbonio dobbiamo cercare in particolare di tenerla bene e di piegarla poco quando vediamo che si formano delle pieghe in punti particolari ad esempio dove ci sono i rinforzi al termine del rinforzo ti viene da fare una piega sempre in quel punto lì beh a un certo punto dobbiamo porci il problema di cambiare punto di piegatura perché se no è come se noi facessimo tante iterazioni di piegamento di nuovo su un foglio di carta è chiaro che a un certo punto diventa talmente debole che lo possiamo rompere molto molto più facilmente però al netto diciamo di queste cose vale molto effettivamente la qualità di produzione di partenza cioè se la vela è pensata in maniera corretta, realizzata in maniera corretta poi alla fine il piegamento non è un grandissimo problema vele in carbonio e vele della competizione hanno diciamo una vita agonistica che finisce normalmente non a causa delle pieghe cioè se vengono utilizzate correttamente la loro vita agonistica non termina a causa delle pieghe ma termina a causa chiaramente del deterioramento della forma che si ha nel tempo insomma tutti gli altri fattori che causano l'invecchiamento delle vene ciao buona giornata